Ha chiesto di parlare il senatore Candiani, ne ha facoltà per dieci minuti. La ringrazio, Presidente. Presidente Draghi, abbiamo ascoltato molti interventi e molte delle cose che abbiamo sentito oggi da lei e dai colleghi che sono intervenuti prima di mai in aula potranno apparire anche all'auditore ovvie, ma ci sono anche delle implicazioni meno ovvie. Partirei da una considerazione. Certamente noi oggi siamo qui per dare un indirizzo al governo da spendere poi in sede europea affinché il nostro Paese ovviamente faccia valere le nostre buone ragioni in un contesto che è complicato. È ovvio che lei va in Europa e faccia ovviamente presente che c'è un costo dell'energia troppo elevato, ma non è per niente scontato che gli altri partner europei abbiano il nostro punto di vista in merito a quello che è il costo dell'energia. Perché sappiamo benissimo che il sistema europeo è tutto tranne che standardizzato su questi livelli. E quindi su questo avrà bisogno di molto impegno e soprattutto di un lavoro complicato. Ma deve tenere presente, dobbiamo tutti tenere presente, che non siamo qui a parlare semplicemente e solamente, per quanto sia impegnativo, di quello che accade in Ucraina. Ma anche dobbiamo avere la consapevolezza che dalle nostre azioni ne discenderanno successivamente delle altre questioni. Ci saranno ovviamente delle contro-reazioni. E penso, Presidente, alla delicatezza di quello che è il rapporto con gli altri partner europei in merito alle sanzioni. Perché è evidente che più si va avanti e più queste mettono ovviamente in difficoltà e sono la nostra arma in campo la Russia in merito all'economia. Ma è altrettanto evidente che i 27 Paesi europei si caratterizzano da necessità e anche da paure differenti. E se non si fanno bene i conti, quello straordinario fronte, compatto, che si è miracolosamente presentato in questa circostanza, potrebbe andare incontro a delle difficoltà. E questo non vogliamo che vanifichi gli sforzi finora fatti per giungere alla fine velocemente del conflitto. E quindi ci sono delle questioni che non sono tanto ovvie. Perché mettere le sanzioni può essere una soluzione ovvia, ma non è ovvio che, dall'altra parte, questa possa produrre in tempi brevi degli effetti. Nel frattempo però dobbiamo essere consapevoli che le nostre imprese sono in difficoltà, che passata l'ondata emotiva ci sarà da ricostruire anche rapporti politici ed economici, che gli interi rapporti politici ed economici del globo da questa faccenda sono completamente mutati, fino ad arrivare a approvvigionamenti da parte degli Stati Uniti di greggio del petrolio col Venezuela, oppure a riaprire addirittura canali che erano chiusi con l'Iran. Questo ci dice che tutto sta mutando e che nulla dopo questo evento bellico sarà più come prima. Dobbiamo anche noi giocare in questo difficile equilibrio, Presidente. Ci domandiamo ovviamente sempre quanto l'UE giochi in squadra o quanto ogni singolo Paese giochi per sé, ma noi non abbiamo dubbi che il nostro ruolo sia quello di fare da player, non certamente da cospettatori o da spettatori. Il Ministro Di Maio si sta muovendo, sta andando in giro un po' per tutto l'emisfero nord e l'emisfero sud del Paese a cercare nuove forniture di energia elettrica, di energia e di carburante. Presidente, attenzione, perché i mezzi di informazioni poi semplificano molto, però non è che dobbiamo sostituire una dipendenza con un'altra dipendenza. perché è evidente che noi oggi togliamo e dobbiamo togliere il monopolio, la grande fornitura che arriva dalla Russia, però stiamo attenti perché fornirci da alcuni Paesi del Centrafrica, alcuni Paesi di cui non è neanche da nascondere il nome, il Congo piuttosto che l'Angola, non penso certamente all'Algeria o al Qatar, la stessa Libia, ha delle implicazioni di politica estera e di rapporti e di equilibri, perché la Cina in Africa sta facendo da lungo tempo politica estera. Quindi attenzione perché raggiungere l'autonomia non significa sostituire la dipendenza della Russia con altre dipendenze, significa invece costruire dei rapporti, a mio avviso su questo il Governo dovrebbe spendersi domani e prossimamente, con gli altri partner europei. Penso ai rapporti, abbiamo il Presidente firmato qualche giorno fa, deve essere ratificato ancora dal Parlamento, il Trattato del Quirinale. C'è un Paese oltre Alpe, la Francia, che ha in sviluppo progetti importanti sull'energia nucleare, possiamo tranquillamente collaborare con loro affinché quelle forniture diventino per noi capacità di essere autonomi, indipendenti rispetto a queste forniture che invece arrivando da Paesi instabili possono riportarci in futuro ad una nuova dipendenza. Ecco, allora su questo il Presidente Rico deve fare una differenza la sua presenza domani in sede europea, non limitandosi semplicemente, ripeto, per quanto la situazione possa essere ovvia a discutere quello che è l'ordine del giorno, ma anche spingendosi un po' più in là e pensando bene come l'Italia debba avere un proprio ruolo in questa situazione. Perché è evidente che lo stesso concetto che ho appena accennato di autonomia e, se vogliamo, anche di forniture non comprimibili deve essere applicato su ogni sfera che oggi è in difficoltà, che sia l'agricoltura, che sia la fornitura dei chip, come lei diceva prima, che sia la produzione di minerale. Qualsiasi produzione strategica non deve andare sotto un dato limite che dobbiamo considerare non comprimibile per essere autonomi. Se non si rimette al centro questo concetto trasferiremo dipendenza ad altra dipendenza e questo certamente non ci serve. Bene, Presidente, abbiamo apprezzato molto quello che è stato l'intervento del Governo per ridurre il costo del carburante alla pompa. Passare da 2 ore 30 a 1 ore 77 è stato un messaggio molto chiaro anche ai nostri concittadini. Abbiamo voluto questo intervento del Governo e lo sosteniamo. Nella stessa misura abbiamo bisogno che il Governo intervenga in maniera determinata nei confronti delle nostre imprese, perché ci eravamo convinti di essere usciti dall'emergenza Covid e ci siamo ritrovati in un'emergenza bellica. Questo prezzo le nostre imprese lo stanno già sostenendo. Le lascerò poi un documento, Presidente, ho avuto modo di averlo tramite la senatrice Catania, che ringrazio. È un documento che arriva da uno studio legale in Russia che rappresenta le nostre imprese, che scrive e ci chiede di fare attenzione, di non dimenticarci, che le sanzioni che imponiamo qua alla Russia dall'altra parte vengono applicate come ritorsione alle nostre imprese in Russia. Trovandoci quindi di fronte, e lo leggo testualmente, è necessario tutelare le imprese e i cittadini italiani operanti e residenti in Russia, mediante l'individuazione di misure di supporto e di ristoro, laddove di fatto, e nonostante la normativa internazionale sulla tutela degli investimenti non dovrebbe consentirlo, si trovano in pregiudizio economico, in ragione della sempre più verosimile ipotesi di nazionalizzazione, requisizione, esproprio, sequestro sulla base delle misure ritorsive russe. Non dimentichiamoci delle nostre imprese che per anni hanno reso possibile il nostro export e si hanno fatto crescere il PIL. Non abbandoniamoli, perché loro oggi sono al fronte. Quello è il nostro fronte. Al popolo ucraino dobbiamo dare tutto il supporto possibile e immaginabile nel sostenere i profughi che arrivano, i veri profughi che arrivano e stiamo ospitando, come nell'altro senso dobbiamo dargli anche una visione e una certezza sul futuro. Gli aiuteremo anche la ricostruzione, anche fisica, delle loro città. Bene ha fatto chi ha proposto nei giorni scorsi la ricostruzione del teatro di Mariupol. Però attenzione, Presidente, non dimenticarci dei problemi che ha l'Italia e degli italiani, perché altrimenti ci troveremo di fronte al paradosso di un teatro di Mariupol ricostruito dall'Italia e di una bella matrice che dopo cinque anni non siamo ancora riusciti a mettere in piedi. Ecco, queste aporie non si devono verificare. Quindi camminiamo tutti passo dopo passo assieme, facciamo tutto in maniera corretta, ma non lasciamo indietro nessuno, ripeto, a partire dagli italiani e certamente dal popolo ucraino a cui diamo il nostro massimo sostegno. Occorre fiducia al Paese, Presidente. Occorre fiducia per uscire assieme da questa crisi economica e abbiamo bisogno di un impegno che sia a 360 gradi con la diplomazia. Ci piace quella diplomazia che lavora in silenzio, che non si vede, che va dai fatti e non all'immagine. Ci piace pensare che l'Italia possa giocare la propria parte, ripeto, da player principale nel riportare la pace in quel Paese e nel ricostituire una condizione in equilibrio economico internazionale che ci rimetta uno a gomito all'altro, ma a lavorare, non a combatterci. Grazie.